ok se sei qui è perché hai deciso di provare a vedere cosa ha combinato in questa modalità quindi andando ad esplorare quella zona ok siamo pronti 3 2 1 ancora così muovi il punto lì 3 2 1 boom eccole qua aspetta eh torniamo allora andiamo da qui c'è una testa che ci aspetta oh mamma sto per cadere nelle fiamme ah invece una scala aia che cavolo faccio e allora qui ah cos'è quindi c'è una testolina e poi devo tornare indietro ecco sì infatti l'obiettivo della missione della terza missione era raccogliere punti più punti possibili sapete che punti qui si fanno con le teste di guider eh lì c'è un'altra io ce ne sono delle altre però non vedo un modo per tornare qui sopra quindi non voglio assolutamente rischiare di rimanere bloccata né tanto meno vedo un modo per salire lì sicuramente lo troveremo più avanti nel livello ah guardate lì ci sono ah guardate c'è sfuggito una testa sul lampadario vado subito a prenderla aspetta torniamo indietro quindi cosa c'è oh guardate c'è qualcosa che vedremo sicuramente alla fine del livello avete presente le pixel art che ci sono alla fine di ogni sezione della mappa sarà sicuramente una di quelle adesso come torniamo indietro? ah le fiamme si ma però qui c'è qualcosina di interessante infatti e infatti e infatti e infatti qui c'è l'ultima ok abbiamo collezionato 27 eravamo tipo 3 teste a inizio livello e adesso ne abbiamo ben 27 quindi abbiamo raccolto 24 teste solamente in questo livello adesso vi invito a cliccare sul box qui sopra per tornare al punto in cui eravamo lì sul lampadario e per selezionare di proseguire la pecora dolly quindi andiamo a salvare la pecorella andiamo a salvare la pecorella